I carabinieri della stazione di San Giorgio di Pesaro hanno arrestato un albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ne hanno denunciati altri quattro. L'operazione nasce da un controllo alla circolazione stradale effettuato la notte scorsa a Villanova. Una pattuglia di carabinieri ferma una Fiat Punto di colore rosso, al suo interno due albanesi che dopo un rapido controllo in banca dati sono stati perquisiti. Durante l'identificazione il passeggero ha cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette contenente della marijuana, nascondendolo all'interno della portiera, ma è stato scoperto dai militari di pattuglia. Grazie alle banche dati, delle forze di polizia e soprattutto al patrimonio informativo posseduto dai carabinieri sono risaliti all'abitazione del clandestino ed è scattata così un'operazione congiunta con i colleghi di Saltara. Circondata l'abitazione i carabinieri hanno bussato alla porta ma appena avvistati i militari gli occupanti della casa hanno tentato in ogni modo di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra e sbattendo in faccia la porta i carabinieri, ma i militari erano appostati all'esterno della viletta e hanno recuperato ogni cosa. All'interno dell'abitazione sono stati identificati due albanesi, di cui uno clandestino ed un rumeno erano invenuti nel giardino sul retro 12 dosi di cocaina e nella casa con tante e alcune dosi di marijuana. I 5, due clandestini e tutti con precedenti in materia di sostanze stupefacenti sono stati condotti in caserma. Al termine degli accertamenti l'uomo che aveva gettato le dosi di cocaina dalla finestra, un 26enne albanese, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere, mentre gli altri sono stati deferiti per lo stesso reato in stato di libertà. Al vaglio delle autorità di pubblica sicurezza, la posizione dei clandestini.